Bentornati a tutti ragazzi con Piante Contro Zombie Il giardino zen è proprio elegante, eh? Puoi utilizzarlo ogni volta che vuoi accendendo dal menu principale Ora basta però, hai una cosa da difendere Devi avvertirti, odierai davvero tanto il prossimo livello Perché? Perché ti vedrai piombare zombie addosso d'assalto uno dopo l'altro Adesso zombie d'assalto, detesto quei maledetti zombie Li detesto, li detesto con tutto il cuore E voglio tremenda vendetta Eccoli che arrivano quelli idioti Ok, livello speciale È pieno di zombie d'assalto E non ho visto gli altri tipi perché è andato un po' veloce No, questo li teniamo un po' a sti vasi E volendo ci puoi dare anche delle piante Non scocciano Wow Partiamo bene Che lavori del cac che mi fate fare? Ok Ci metteranno un po' a mangiare Questo me lo ricordo Non lo ricordo molto bene Ci davano praticamente Solo Oh, com'è che si chiamano? Oh, volevo vederlo Vabbè, questo si chiama zucca Ci danno solo praticamente Le chomper Che si chiamano venere mastica zombie Ci danno solo queste Ci danno solo queste Vasi e zucche E basta Tre tipi di piante ci daranno Oddio, qua sono due Sì, vabbè, mangia Ancora E gli zombie Se non sbaglio Arrivano solo Per così Cioè Arrivano solo cadendo dall'alto Le qua sono già due Oh Questa non era protetta Ah no Ci danno anche Le cherry bomb Ovvero Non ho letto Ciliega esplosiva Mi sembra Quindi Yeah Ok Questo volete Grandissimi E niente Sì, ciliega esplosiva Ci danno solo Di quattro tipi di piante Per tutto il livello Come pianta un vaso Io voglio mettere la zucca sul tesso Ho sbagliato anche a mettere il vaso Allora Maledetti E te mi stai antifatica, eh Ecco A quanto pare stai antifatica anche a loro Eccoli Forza Qui Qui Sì, praticamente Quando già ne mettete due La terza linea Diventa Diventa inutile Perché non 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 mangiano Mangiano Oltre E fanno tipo la squash Lì la zucca No, la zucca Come si chiamava Scherzo zombie Sì, mi sa di sì Comunque un mini gioco Abbastanza facile Quando iniziate a mettere Ah 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 Di iniziate a mettere Né già un bel po' Oddio Dietro non l'ho protetto Vabbè Porta via 2 No Quelli non li toccate E va bene Li avete voluto voi Volete la guerra Volete la guerra Ho detto Che guerra sia Oh Voglio vedere adesso Come fate Oli Ma sì Sprechiamoli Lol Adoro questo livello Perché Dai cavolo Mangia Questa Mi ha proprio Eh E che cacchio Lì Caricare quei due lì così Oh Calmo 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 Cosa vuoi fare E voi due Ecco lì Brutti Bastardi Mangia piante Intanto Intanto Ogni tanto Sparistono Tipo due zombie Ma così Proprio No no Troppo forte Arrivano giù Tranquilli Quando Ci stanno mangiando Eeeh Per favore Eccolo E' arrivato No E' arrivato Alla sociale Che si deve mangiare Lo zombie Tutto da solo Aiuto Stanno Stanno diventando davvero Un bel po' Quindi qua Dobbiamo di proteggere Quelli che hanno Problemi Salutari Tipo questa Questa Stava diventando Un po' Complicatuccio Ora questa Non so più Dove piantarla Volendo Ci servono Delle protezioni Vabbè qua Non mi preoccupo Più Oh Porco Ma che Cazzo What a Madre Oh Shit What are you Anche se me la mangi Oh lì Complimenti Ti sei condannato Uh Una cipolla Aglio Ecco Aspettate che guardo Aglio Perfetto Inducili zombie E cambiare fila Praticamente Ve lo spiego La prossima parte Eh già Cosa 50 Quindi Non neanche tanto Quindi Ci vediamo Ciao Ciao Grazie a tutti.